bittersweet trama puntate mercoledì 12 giugno 2019 ferit in quei giorni licenzia la donna delle pulizie e nashley si offre immediatamente di occuparsi anche dell'ordine della casa in cambio naturalmente di uno stipendio maggiore intanto fatosh avvisa la sua amica che può andare a guadagnare dei soldi extra ad un evento per soli ricchi dove cercano una cameriera esperta la ragazza accetta molto volentieri qui accade qualcosa di veramente molto curioso mentre sta servendo da bere a un tavolo nashley urta con il suo bracciale alla giacca di uno dei presenti e si rompe il giovane si offre immediatamente di risarcirla per il danno causato anche se non ne ha nessuna colpa ebbene quel giovane è ferit ma i due non si conoscono ancora in quanto non si sono mai visti nei giorni seguenti mentre nashley intenta preparare le sue pietanze l'autista di aslan chiede alla giovane cuoca se può badare per qualche ora al piccolo burut e lei accetta il bambino è molto felice della compagnia della giovane e iniziano subito a giocare insieme mettendo un po a soccuadro la villa quando ferit rientra nel vedere tutto quel disordine rimprovera molto aspremente nashley e le chiede altrettanto freddamente di preparare la cena per lui e il nipotino burut sentendosi in colpa per quanto accaduto chiede alla sua nuova amica di sedersi con loro dopo aver servito la cena ferita consente e i due iniziano a fare amicizia anche se in maniera molto fredda e distaccata grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti